Sabato incontriamo un'altra squadra bresciana, quindi altro derby in questo girone. Incontriamo una squadra giovane, tecnicamente molto preparata, allenata bene. Sarà una gara molto difficile prima cosa perché loro sono una squadra che non molla mai. Vengono da un'ottima vittoria e noi dobbiamo un attimino riscattare la sconfitta che abbiamo fatto sabato. Qui con noi c'è Laura che è un'ex giocatrice del Bedizzole e gli chiediamo come sta vivendo questa vigilia di partita in casa Pramobol. Stiamo cercando di allenarci e prepararci al meglio per questa partita, io non vedo l'ora, mi sono sognata la data ancora due mesi fa. Ho voglia di ritornare in quella palestra, di rivedere le mie compagnie ma soprattutto di giocarmi in questa partita. quindi vi aspettiamo sabato a San Vito.